La nostra idea è quella di riproporre nella linea del tempo, naturalmente non si può fare giorno per giorno impossibile, ma mese per mese, grandi eventi, grandi vicende, grandi temi, grandi personaggi, grandi o anche piccoli, non necessariamente sono gli statisti, sono anche le persone comuni, di ripercorrere costruendo una serie di racconti che in qualche modo propongano una lettura generale della Grande Guerra. La gran parte dei siti, magari molti di loro meritevoli, che si sono sviluppati in questi ultimi anni sulla Grande Guerra, sono semplicemente un caotico affastellarsi di brani che si possono leggere con qualunque modalità e in qualunque ordine. Quello che invece noi da storici dobbiamo fare è tenere conto che c'è una linea del tempo. Allora noi ci mettiamo sulla linea del tempo e raccontiamo nella puntata del maggio 2014 che esce domani, raccontiamo il tema del maggio 1914, la corsa agli armamenti. Nella puntata del giugno 2014, il prossimo mese, racconteremo l'attentato di Sarajevo, le sue premesse, quindi la questione nazionale dell'impero austro-ungarico e via così. Certamente si può leggere un libro di storia, io sono in linea di, in ordine di età, il padre di questo piccolo gruppo di miei collaboratori storici, grafici, infografici, informatici, quindi io sono stato l'ultimo a capire quello che loro mi proponevano, cioè che era necessario e opportuno utilizzare lo strumento del web. Ci sono arrivato per ultimo perché ho 62 anni e quindi ovviamente mi sono formato in tutta un'altra epoca, però credo di iniziare a capire, addirittura penso che dalla settimana prossima avrò anche un profilo Facebook, è capire che attraverso il web tu puoi proporre in maniera, come dire, molto articolata e molto organica, ma allo stesso tempo puoi anche offrire al tuo lettore, al tuo fruitore, io continuo a chiamarlo lettore insomma, fruitore, proporre comunque anche un racconto organico. Se poi il fruitore vuole andarsi a vedere le gallerie delle fotografie che noi metteremo mese dopo mese per 56 mesi sul sito e quindi saranno alla fine alcune migliaia di fotografie poco conosciute, si andrà a vedere le fotografie, ogni fotografia avrà una didascalia e quindi si potrà ricostruire, come dire, dei suoi percorsi, non so, sono interessato ai cannoni e vado a vedere le fotografie che ci sono sui cannoni e che noi abbiamo scelto. Se qualcun altro invece fosse interessato ai numeri, ai dati statistici, in quasi tutte le puntate ci sono delle infografiche, c'è il tentativo di usare questo strumento molto simpatico, molto colorato, molto carino, se vogliamo anche un po' semplificato, ma di dare i numeri in maniera che, come dire, li possano capire tutti attraverso dei quadrati, attraverso dei colori, attraverso dei disegni, attraverso delle linee. Se uno invece vuole andarsi a leggere i testi, trova anche le indicazioni bibliografiche, cioè trova, se vuole sapere qualcosa di più sulla battaglia della Marna, in fondo al testo che è stato creato da uno dei nostri collaboratori, ci sono alcune indicazioni bibliografiche. Ci sono dei link al Museo della Marna, come ad altre, quindi, come dire, si offrono tantissime possibilità che sono allo stesso tempo organiche, cioè possono essere organiche, ma che allo stesso tempo anche si prestano, come dire, a una fruizione molto individuale, molto personale. Credo per il mestiere che faccio di dover essere fedele al mio mestiere, quindi io sono uno storico, insegno storia all'Università di Trento e questo è il mio mestiere e io penso che l'unico antidoto contro la banalizzazione sia restare il più possibile fedeli, nella misura delle nostre capacità, alla correttezza storiografica, ma allo stesso tempo scrivere anche in un modo semplice e chiaro. La puntata di maggio, lo confesso, l'ho scritta io, è l'unica puntata che ho scritto perché bisognava, pur che qualcuno scrivesse la prima puntata per far vedere e sono stato duramente criticato nella prima versione dai miei trentenni collaboratori, i quali mi hanno detto che scrivevo in modo accademico e io ovviamente non ho potuto che, come dire, cercare di capire e anche giustificarmi se io sono un accademico faccio un po' fatica a cambiare, però ho cercato di semplificare anche con il loro aiuto. Allora io penso che lo stile, la forma debbono essere il più possibile semplici, ma che non si debba banalizzare, che non si debba schematizzare, che non si debba fare doniero un fascio, per dirla così, dove alla fine, come dire, tutto va bene, tutto fa brodo e non c'è più nessuna differenza, invece la storia è fatta di sfumature, è fatta di incroci, è fatta di contraddizioni, è fatta anche di scarti temporali, perché è fatta dalle persone. Il tentativo, speriamo di riuscirci strada facendo, è quello di, come dire, di coniugare la correttezza scientifico-storiografica con delle modalità agevoli, anche attraenti in qualche modo di fruizione.